spesso ritratti dagli artisti uomini potenti mi riferisco ai papi e ai cardinali ma credo che questo dipinto in particolare ci racconti molto di personaggi che lasciarono un segno nel bene e nel male nella storia della penisola qui raffaello ritrae papa leone decimo nato giovanni dei medici corrotto noto simoniaco perverso coltissimo amico di erasmo eppure figlio di lorenzo il magnifico e come tale compagno di scuola di michelangelo nei giardini medicei fu l'ultimo papa a essere eletto come semplice diacono ma fece a lungo parlare di sé per via del fatto che si trovò tra le mani la patata bollente del caso lutero e non la seppe gestire il pontefice si trova al centro del dipinto seduto su una sedia decorata in rosso è rivolto verso sinistra e osserva all'esterno dell'opera è vestito con un abito bianco e il mantello rosso scuro come anche il suo cappuccio ha le braccia appoggiate ad un tavolino coperto da un telo rosso sul piano inoltre è appoggiato un messale aperto accanto ad una campanella finemente decorata alle spalle del pontefice vi sono poi luigi dei rossi e giulio dei medici i due cardinali lo sfondo è uniformemente scuro ma si intravedono nell'ombra alcune architetture a sinistra giulio era figlio illegittimo del fratello di lorenzo dei medici lo sfortunato giuliano ucciso nella congiura dei pazzi appare ancora timido e coraggioso non lo sarà mai più di tanto ma gli riesce una volta diventato papa a sua volta come clemente settimo di assestare un colpo diplomatico geniale facendo sposare la pronipote della tribù medici al re di francia enrico secondo questo però non gli impedirà di dover sopportare il sacco di roma il colore più deciso è il rosso riservato al manto pontificio e alla decorazione del suo sedile più chiari ma sempre rossi sono gli abiti dei cardinali e la tovaglia dipinta sulla sinistra l'abito di papa leone decimo è bianco ombreggiato con toni grigi caldi tenenti all'ocra così anche il braccio del cardinale giulio dei medici la luce illumina chiaramente il volto di papa leone decimo dipinto di tre quarti e quasi totalmente illuminato così anche il suo braccio sinistro e parte dell'abito che scende sotto la tovaglia sono illuminati anche la manica di giulio dei medici e il messale a sinistra secondo alcuni storici la tristezza che emana dal ritratto deriva dalla crisi finale dell'artista in ambito professionale se ti è piaciuto il video iscriviti al canale lascia like e condividilo con i tuoi amici ti invito anche a visitare il mio negozio un saluto e al prossimo video di arte esplorando iscriviti al canale